La libertà di pensiero io metterei un punto interrogativo. Il nostro pensiero è veramente libero? Coltivare il pensiero di forme, il gusto per la differenza e la capacità critica per respingere la pericolosa banalità dei luoghi comuni. Dal 7 al 10 ottobre la rassegna cittadina del pensare libero proporrà stimoli e conversazioni pubbliche per sollecitare un più lucido sguardo sulla realtà che normalmente abitiamo. Il senso di questa iniziativa sta tutto nel sottotitolo disobbedienze, dissensi, democrazie. Sono i grandi temi, temi cruciali della contemporaneità. Per il semplice fatto che dipende dal linguaggio e che il linguaggio ha delle convenzioni è ben difficile avere veramente un pensiero libero. Quando dico che il pensiero è legato fortemente al linguaggio, parola che appunto contiene sia la parola che il pensiero in greco, l'ogos, dico anche una cosa fondamentale che ogni pensiero è legato a un contesto etnico. Noi cresciamo in una realtà sociale e ne subiamo fortemente l'influenza. Allora il libero pensiero è in realtà invece un tentare di pensare oltre il proprio pensiero, avere la possibilità quindi di incrociare altri modi di pensare e farli propri anche al di là del proprio ambiente etnico che inevitabilmente spinge a pensare tutti alla stessa maniera. Inaugurazione mercoledì 7 alle ore 11 e 30 nel complesso di San Marcellino e Festo con una lezione magistralis di Gustavo Zagrebelsky dall'urticante titolo Liberi Servi. Da San Domenico Maggiore a Palazzo Marigliano si discuterà anche di satira e religione, di disobbedienza civile elettronica e della libertà di parola in rapporto alla legge. Un tema che richiama il processo in corso allo scrittore Henry De Luca accusato di istigazione a delinquere per un'intervista a sostegno del movimento Notav. Una volta affermato il diritto, il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, il contenuto e quindi al tempo stesso anche i limiti relativi a questo diritto non possono che, diciamo così, subire le conseguenze dell'evoluzione della società. Per cui quello che ci sembrava, diciamo così, giustificabile 30 anni fa oggi non lo è più. Questa rassegna nella nostra speranza, nella nostra idea e nel nostro progetto e quello che possa parlare soprattutto ai giovani della città, coinvolgerli, appassionarli, dargli idea appunto che del pensare libero è lo strumento più importante che hanno nelle loro mani per costruire la propria personalità, la propria soggettività e anche la propria relazione con gli altri appunto che debbano essere relazioni di libertà, che sono le uniche che possono dare gioia, felicità, una vita che abbia senso. L'obiettivo è anche di fare di Napoli in questo momento, come è stata in tutti questi anni, come dire, un punto stridente col pensiero dominante. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.